Sì, è un risultato straordinario, abbiamo migliorato di molto i dati anche in termini di coalizione rispetto a cinque anni fa, se si pensa in questo collegio Martino Vise col 42%, adesso siamo quasi dieci punti sopra, Fratelli d'Italia è abbondantemente il primo partito, il collegio aquilano, l'Aquila Teramo è il migliore in Abruzzo, il risultato dell'Aquila città di Fratelli d'Italia è il migliore tra i quattro capolotti di provincia, è una risposta importante da un territorio, una grossa apertura di credito nei confronti della coalizione di Centro-Desto e di Fratelli d'Italia, speriamo che l'incarico venga dato, le indicazioni siano in favore di Giorgio Meloni perché questo vorrebbe significare avere il Presidente del Consiglio qui e insieme al Presidente del Consiglio avremo una pattuglia di parlamentari che saranno in grado di garantire e di preservare le esigenze di questo territorio.